Scongiurata l'escalation per la vicenda del missile caduto in Polonia con Varsavia che ha varato una commissione d'inchiesta che coinvolgerà anche esperti di Chievi. In Ucraina è stata un'altra notte e una mattinata di bombardamenti. Arrivano le prime nevicate, molte le aree del paese che sono prive di elettricità e riscaldamento. Intanto il presidente turco Erdogan, principale mediatore, plaude al rinnovo di altri quattro mesi dell'intesa sull'export di grano. e ringrazia sia Putin che Zelensky. Dopo l'invito di Giorgia Meloni rivolto a Charles Michel affinché la gestione dell'immigrazione irregolare non sia un problema tra Italia e Francia ma sia affrontata dall'intera Europa, la premier italiana attende ora una risposta. Prosegue intanto lo scontro interno con le opposizioni dopo l'informativa di piante dosi. Carlo Calenda parla di strategia disastrosa, critici anche i vescovi, la chiusura verso migranti e rifugiati non è l'azione più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo un'emergenza, dice la CEI. La polizia di Caltanissetta ha smantellato in Sicilia una rete di scafisti, 18 le persone arrestate, 11 tunisini, 7 italiani, l'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Da Gela le imbarcazioni si recavano in Tunisia, le persone salivano a bordo dopo aver pagato in contanti cifre tra i 5 e i 7 mila euro. In caso di avaria potete gettare la gente in mare, dicevano i capi dell'organizzazione, in una intercettazione. Il governo mette a punto la prima manovra che annuncia Giorgetti verrà presentata lunedì nel Consiglio dei Ministri. 21 miliardi saranno destinate a sostenere famiglie e imprese, ne restano appena 9 per dar seguito alle promesse elettorali. Il vice premier Salvini elenca i punti fermi, l'innalzamento della soglia della flat tax, l'avvio di quota 41 per andare in pensione e un condono delle cartelle esattoriali fino al 2015. Lacrime sangue in Gran Bretagna, tasse in crescita per 24 miliardi di sterline, quasi 30 invece di riduzione per la spesa pubblica. La sintesi della nuova manovra voluta dal premier britannico Rishi Sanak per risanare le finanze di Londra. Si preannunciano anni di austerità per il servizio pubblico, in un momento in cui l'Inghilterra, l'inflazione ha raggiunto i livelli della crisi del 1981. Crescono i casi di abusi sui minori nelle scuole, i dati diffusi dalla direzione della polizia criminale evidenziano nel 2022 un incremento del 54%, tra le vittime prevale quasi sempre il genere femminile sotto i 14 anni. Un rapporto Unicef evidenzia un altro dato allarmante, nel mondo tra gli adolescenti si registra un suicidio ogni 11 minuti. Buongiorno dal telegiornale della Sette, dunque in primo piano ancora la guerra in Ucraina, perché da un lato cala fortemente quella che è stata la tensione a livello internazionale per l'episodio della caduta del missile in territorio polacco. Un errore, non un'azione, un attacco deliberato da parte russa, si attendono comunque le rilevanze delle inchieste che sono state predisposte e da parte, ma continuano in Ucraina, in varie parti del paese, su più fronti bombardamenti, ci sono stati stanotte molto intensi, attacchi missilistici da passate russa. In un paese che oggi conosce la prima neve, i primi freddi, un paese che come si sa non ha l'energia elettrica in molte zone e dunque è impossibile riscaldarsi. La buona notizia in questa giornata arriva dal prolungamento dell'accordo per l'export del grano, altri quattro mesi che consentono che non ci sia una crisi alimentare e che i prezzi possano essere controllati. La grande paura è passata, ma la tensione resta, i missili caduti in territorio polacco scottano ancora. Il presidente statunitense e il segretario generale della Nato hanno in qualche modo archiviato il caso come un errore, un missile della contraerea di Kiev lanciato per intercettare un attacco russo e caduto per sbaglio oltre il confino ucraino. Un errore che però non solleva Mosca dalle sue responsabilità. Le diplomazie sono comunque in allerta, ma il messaggio è stato chiaro fin da subito, mantenere la calma e evitare un escalation. La conferenza stampa di Stoltenberg prima e del presidente polacco Duda poi hanno cercato di abbassare i toni, anche alla luce dei passi verso il disgelo compiuti durante i G20 di Bali, da cui ieri è uscito un documento congiunto di condanna all'invasione russa in Ucraina. La Polonia ha comunque avviato una commissione di inchiesta sull'incidente, in cui verranno coinvolti esperti ucraini che continuano invece a negare la responsabilità. Dall'altro lato c'è la reazione del Cremlino, che accusa l'Occidente di un'azione deliberata e di isterismo antirusso, convoca l'ambasciatore polacco a Mosca per il modo in cui è stata diffusa la notizia, accusando subito che si trattasse di un missile russo. Missili russi però hanno continuato a cadere in Ucraina durante la notte, questa mattina. Fonti ucraine parlano di missili da crociare su Kiev, Odessa e Dnipro, dove sarebbero stati colpiti impianti di produzione di gas e di attrezzature, tecnologie missilistiche e spaziali per scopi di difesa, mentre un attacco ucraino avrebbe colpito un aeroporto russo in Crimea. Il ministro degli esseri ucraino, Kuglieba, ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Blinken, in cui ha sottolineato che la consegna dei sistemi di difesa antiaerea all'Ucraina deve velocizzarsi. I sistemi missilistici NASA hanno già dato prova dalla loro efficacia, ha detto Kuglieba, e sono anche convinto che sia giunta l'ora dei missili di difesa antimissile Patriot. Mentre si attende che le armi tacciano e mentre arriva l'inverno con la prima neve e risuona l'appello del presidente indonesiano Widodo ai leader dei G20, fermate la guerra, una buona notizia arriva sul fronte della crisi alimentare. L'accordo per creare un corridoio e far uscire il grano dai porti ucraini è stato rinnovato per altri quattro mesi. Il presidente turco Erdogan, negoziatore principale, ha ringraziato Putin e Zelensky per la disponibilità dimostrata. Nei quattro mesi trascorsi siamo riusciti a far partire 500 navi per un totale di più di 11 milioni di tonnellate di grano e prodotti alimentari, ha detto Erdogan. Correlato in qualche modo, ma l'altro tema è chiaramente quello della gestione dei flussi migratori che è oggi sul tavolo della G7 dei ministri degli interni in Germania. Ieri c'è stata l'informativa in Parlamento del nostro ministro dell'interno Piantedosi che ha sottolineato con parole molto forti come in Italia non si possa e non si debba entrare illegalmente, attaccando anche quello che talvolta è l'operato delle imbarcazioni delle ONG. Piantedosi ha detto anche che l'accoglienza ha un limite. Bruxelles, diciamo così, l'Unione Europea ha teso una mano, ha detto che da un certo punto di vista l'Italia non sarà sola e verrà dato sostegno. Alle parole comunque del nostro ministro dell'interno sono arrivate anche delle critiche, non solo dalle opposizioni, ma anche dalla conferenza episcopale. Matteo Salvini interviene per fare da sponda al suo ministro dell'interno Piantedosi, pubblica un post con il pensiero critico di Marine Le Pen nei confronti del governo francese, lo giudica di buonsenso e poi parla così. Semplicemente facciamo rispettare le norme nazionali e internazionali e quindi sono orgoglioso di quello che il governo ha fatto fino ad oggi. Orgoglioso, dice Salvini, nonostante il chiarimento tra Meloni e Macron a Bali sulla Ocean Viking lasciata vagare per il Mediterraneo e poi fatta approdare nel porto sicuro di Tolone si è andato a vuoto. La Premier però ha parlato con Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. La gestione dell'immigrazione non è una questione tra Italia e Francia, ma riguarda l'intera Europa. Tocca ora al titolare del Viminale mettere i paletti in Germania, al G7 dei ministri dell'interno dove si annuncia una mediazione di Berlino per sostenere la linea dura del governo nei confronti delle ONG che, dice Piantedosi, non possono scegliere autonomamente i paesi e i porti dove attraccare. Strategia disastrosa, la replica da azione di Carlo Calenda. Strategia che finirà per far rimanere in Italia decine di migliaia di irregolari. In più, visto che lo scontro con la Francia ha provocato un rafforzamento dei controlli alle frontiere. Siamo di fronte a un'emergenza che non c'è, fa sapere l'organizzazione internazionale Action Head, mentre un attacco tutto politico a Salvini arriva dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, Ghice Nardella. Il ministro Piantedosi è sulla difensiva in un contesto dove l'azione di governo è condizionata dalle spinte di Salvini, che non ha alcun interesse ad affrontare la questione immigrazione in modo serio e pragmatico. Tra polemica e progetti si alza la voce della CEI. Secondo i vescovi italiani, la chiusura verso migranti e rifugiati non è la strategia più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo un'emergenza. Se ci sono problemi si possono buttare in mare. Questa è l'indicazione data dai capi di un'organizzazione di scafisti, appunto, alle persone che si incaricavano, che partivano da Gela per andare in Tunisia a prendere emigranti. La polizia ha sgominato questa organizzazione. Ci sono 18 misure cautelari. Italia-Tunisia è andata in ritorno. Un viaggio con rischio calcolato, per così dire. Se dovessero esserci problemi, come un'avaria al motore, sbarazzatevi dei migranti, buttateli a mare. Avevano messo a punto un sistema collaudato, un traffico di persone trasportate su imbarcazioni come questa, piccole ma con potenti motori fuori bordo, dalla Tunisia a diversi porti della Sicilia meridionale. Fino a 5.000 euro il prezzo del biglietto per ogni persona, tra i 30.000 e i 70.000 euro il profitto per ogni viaggio. Esperti scafisti facevano avanti e indietro tra le città tulisine di Allawaria, Darallusce, Corba e le province di Caltanissetta, Trapani e Grigento. In meno di quattro ore trasportavano dalle 10 alle 30 persone e se qualcosa andava storto, come documenta un'intercettazione agli atti, avevano l'indicazione di risolverla facile. I passeggeri potevano essere buttati a mare, come Zavorra. 18 le misure cautelari per traffico di migranti nell'operazione della procura di Caltanissetta, denominata Mare Aperto. 11 indagati sono tunisini, 7 italiani, figure in odore di mafia. Scrivono i magistrati che parlano di un'organizzazione criminale transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il capo Banda, un imprenditore agricolo di Niscemi, che aveva messo a disposizione la sua masseria, fornita di un campo di volo privato. Tra le menti dell'organizzazione, una coppia di tunisini già arrestati per reati analoghi. Gli indagati comunicavano tra loro, usando i social, il denaro raccolto in Tunisia. Arrivava in Sicilia attraverso agenzie internazionali di money transfert. Le bar che partivano da Gela per raggiungere la Tunisia e facevano rientro con il carico di migranti. A volte portavano anche altri carichi, come ascisce e sigarette. Degli indagati, 12 persone sono state catturate, mentre 6 sono finora irreperibili. Come aggiornamento alla situazione in Ucraina, arrivano adesso le parole rilasciate in un'intervista dalla Vice Ministra degli Esteri russo, che dice che non rinunceremo ai territori ucraini annessi. Siamo incrollabili nella nostra posizione, che prevede certamente la nostra integrità territoriale con tutti i territori annessi recentemente, ha detto appunto il Vice Ministro degli Esteri russo. Parliamo adesso della nostra economia e di quella manovra che sta prendendo forma. Il Governo ha tempi stretti, strettissimi. Ieri da Bali il Ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che la bozza del testo sarà già lunedì in Consiglio dei Ministri. È un impianto che sta prendendo forma. Ci saranno gli aiuti alle famiglie e alle imprese in questi 30 miliardi a disposizione, gli aiuti per sostenere quelli che sono stati i contraccolpi del rincaro dell'energia. Ma poi ci sarà spazio, nelle intenzioni del Governo, anche ad un'ampia serie di perdoni fiscali, chiamiamoli così, dalla rottamazione delle cartelle ad un sistema allo studio di rientro dei capitali dall'estero. Il Governo è a caccia di risorse per poter finanziare le misure della sua prima manovra economica che, secondo il Ministro Giorgetti, lunedì approderà in Consiglio dei Ministri. Sarà di 30 miliardi di euro, ma circa 21 sono già stati destinati esclusivamente a sostenere le imprese e le famiglie contro il caro energia. Questi soldi andranno al rinnovo delle misure prese in precedenza dal Governo Draghi. Il Governo dunque disporrà di appena 9 miliardi di euro e per quest'anno non sarà possibile realizzare le promesse elettorali. L'aveva ammesso la Premier Meloni durante il vettice con i sindacati la settimana scorsa e oggi, a ribadirlo, è il Vice Premier Salvini. In manovra, ha detto, daremo dei primi segnali del cambiamento, ma non esauriremo tutto quello che vogliamo fare. Si procederà a piccoli passi dunque. I primi punti fermi elencati da Salvini sono l'innalzamento della soglia della flat tax, l'avvio di quota 41 per andare in pensione è un condono delle cartelle esattoriali fino al 2015. Saranno gestinate quelle sotto i 1.000 euro, mentre quelle fino a 3.000 saranno scontate al 50%. L'ipotesi sulla flat tax, la tassa piatta al 15%, è che si applicherà solo ai lavoratori autonomi con un fatturato che sale dagli attuali 65 ai 85.000 euro annui. Tramonta quindi l'allargamento della platea a dipendenti e pensionati. Rinviato a tempi migliori e al 2024 anche il capitolo pensioni e la riforma per cambiare la legge Fornero. La soluzione per evitare il famoso scalone dei 67 anni di età a partire da gennaio prossimo si chiama quota 103, con 41 anni di contributi e 62, ma forse anche 61 anni di età. Sono circa 3 miliardi quelli necessari per tagliare il cuneo fiscale e mettere più soldi nelle buste paga dei lavoratori. Misura presa da Draghi in scadenza il 31 dicembre, ma il Governo vorrebbe destinarne solo due terzi ai lavoratori dipendenti, con un reddito anno fino ai 35.000 euro e restante alle imprese. Ipotesi bocciata subito dai sindacati che rivendicano l'intero taglio ai dipendenti. Sul lato delle risorse è noto che per il Governo in parte arriveranno dalla riforma del reddito di cittadinanza, ma anche dalla tassazione sugli extraprofitti delle società energetiche che salirà dal 25 al 33% e sarà calcolata sugli utili e non sul fatturato. Società uscite sconfitte dal ricorso fatto al TAR che ieri le ha condannate a pagare il balzello entro novembre. Sarà esaminata dal Governo con grande attenzione perché presenta dei problemi di esecuzione, dice Palazzo Chigi, la decisione del Tribunale di Roma che ha stabilito che sui documenti dei figli dei minori debba esserci la dicitura generica genitore e non padre o madre come era stato stabilito nel decreto del 2019 voluto proprio da Salvini e allora ministro dell'Interno. Un testo che adesso, secondo i giudici, pecca anche di abuso di potere. Si annuncia guerra tra il Governo, il mondo dei diritti civili e delle famiglie arcobaleno e i giudici del Tribunale di Roma che hanno dato ragione alle mamme di una bimba, una naturale e l'altra riconosciuta come adottiva perché abbia sulla carta d'identità la dicitura genitore anziché madre e padre. Una discresia nata con il decreto Salvini del 2019 che aboliva la parola genitore dei documenti dei minori in favore della definizione con l'identità di genere. Il Tribunale di Roma ha dato ragione alle ricorrenti con un semplice ragionamento. Un documento che indichi una delle due donne come padre contiene una rappresentazione alterata e perciò falsa della realtà. I giudici impongono sul documento della minore l'addizione neutra di genitore. L'ordinanza riguarda solo il caso specifico ma la battaglia continuerà per abolire il decreto Salvini. In difesa di quel testo, dopo una giornata di polemiche, si è pronunciato ieri sera a Palazzo Chigi sostenendo che l'ordinanza presenta problemi di esecuzione perché il programma informatico del Ministero dell'Interno prevede l'addizione madre-padre sui documenti. Si mette a rischio, secondo il Governo, anche il sistema di identificazione personale perché si produrrebbe un documento non conforme al quadro normativo vigente. Questioni tecniche e burocratiche dunque ma che sottendono un nodo politico identitario da parte di un Governo di destra-centro che sulle battaglie ideologiche sembra volersi giocare la tenuta del consenso del suo elettorato. Surreale essere infastiditi dal termine mamma e papà. Chi osa? Matteo Salvini. Adesso andiamo a Londra dove a proposito di manovra dobbiamo dire che il Governo britannico ha eseguito una vera propria inversione a U perché, come dicono a Londra, ci prepariamo ad affrontare una tempesta e dunque altro che scontri ai ricchi il nuovo Premier ha impostato una manovra davvero lacrime e sangue fatta di innalzamento delle tasse e anche di forti drastici tagli alla spesa pubblica. Sembra passata un'intera era politica eppure meno di due mesi fa il 22 settembre Liz Truss e il suo cancelliere quasi Quarteng presentavano al mondo la loro idea di un Regno Unito terra felice dove le tasse potevano essere tagliate consistentemente soprattutto in favore di ricchi imprenditori sappiamo tutti come è andata a finire l'inversione definitiva di rotta è arrivata poco fa quando il nuovo cancelliere Jeremy Hunt ha presentato a Westminster il suo mini budget lo schema della finanziaria un budget lacrime e sangue circa 55 miliardi di manovra di cui il 45% 24 miliardi di nuove tasse e il 55% 30 miliardi di tagli alla spesa per il cittadino britannico l'inverno si prospetta durissimo un piano del genere significa l'annuncio di anni e anni di austerità per il servizio pubblico e di conseguenza di prestazioni che verranno ridotte all'osso già ora si calcola che 7 milioni di famiglie nonostante i sussidi abbiano difficoltà a procurarsi l'essenziale come vitto riscaldamento e prodotti per l'igiene personale ma per Hante e per il premier Rishi Sunak questo budget è un male necessario per risanare la finanza pubblica e domare l'inflazione ufficialmente balzata a ottobre all'11,1% ben oltre le previsioni un livello che non si toccava dallo stesso mese del 1981 41 anni fa anni di depressione e disoccupazione nel Regno Unito il tentativo del governo adesso è di mantenere il livello annuale sotto il 10% quest'anno e di portarlo a circa il 7% l'anno prossimo il PIL quest'anno salirà nonostante tutto più del previsto oltre il 4% ma l'anno prossimo annuncia Hante il Regno Unito entrerà ufficialmente in recessione con un segno meno dell'1,4% le speranze di una ripresa sono affidate al 2024 affronteremo la tempesta dice Hante ma appunto di tempesta si tratta tempesta scatenata dal costo spropositato dell'energia dai contraccolpi del covid dalle tensioni internazionali dal disastro trust ma anche sempre più fonti cominciano a dirlo a voce alta dalle conseguenze della Brexit che ha colpito duramente le relazioni economiche britanniche con il partner più vicino e più grande l'Unione Europea è stata un'altra notte di manifestazioni e di repressione in Iran dove secondo un bilancio non ufficiale 12 persone sono morte in attacchi contro i dimostranti a Ize in particolare nel sud del paese un gruppo di uomini armati a bordo di motociclette ha aperto il fuoco contro la folla uccidendo sette persone le proteste si sono intensificate in tutto il paese da martedì in occasione della commemorazione delle mobilitazioni del 2019 in cui morirono 300 persone una cifra che si pensa sia stata ampiamente superata in questi ultimi due mesi quando a scatenare le rivolte è stata la morte di Masa Amini la giovane di origine kurda deceduta in carcere dove era stata portata per aver indossato male il velo come sappiamo adesso ci spostiamo negli Stati Uniti dove si trova il congresso dopo le elezioni di metà mandato in una sorta di parità perché di fatto dopo l'affermazione dei democratici alla Camera i repubblicani hanno adesso il controllo della Camera scusate i democratici al Senato hanno il controllo della Camera preso i repubblicani intanto Donald Trump ha annunciato la sua terza candidatura torna dunque in campo mancano 15 mesi alle nomination è una vita politicamente parlando per Trump non solo ci sono le insidie interne al partito ma anche quelle date dalle quattro inchieste giudiziarie che lo riguardano ora gli equilibri di potere negli Stati Uniti sono chiari nella notte i repubblicani hanno conquistato la maggioranza alla Camera ci sono ancora una manciata di seggi da assegnare ma il computo finale dovrebbe essere 221 a 214 Joe Biden dovrà dunque confrontarsi nei prossimi due anni del suo mandato con un congresso diviso significa con buona pace dei democratici che governeranno il Senato che poco o nulla delle politiche del Presidente passerà il baglio della Camera l'obiettivo è chiaro far arrivare Biden ad una possibile rielezione con il minimo nei sondaggi e le strade sono due la prima obbligare il governo allo stallo e poi presentarlo agli elettori come incapace di rispondere ai bisogni del Paese la seconda è ancora più insidiosa perché la Camera ha il potere di promuovere inchieste sull'operato della Casa Bianca i repubblicani tra i quali siederanno più di un centinaio di trampiani convinti hanno ancora il dente abbelenato per i due tentativi di impeachment contro l'ex Presidente e per aver incitato la folla nell'assalto al Congresso la lista è già pronta Biden potrebbe finire sotto scrutinio per la gestione caotica dell'uscita americana dall'Afghanistan e c'è sempre il vecchio cavallo di battaglia della destra cospirazionista sui rapporti di Hunter Biden e il figlio del Presidente con la Burisma azienda finita nei guai in Ucraina secondo Trump Biden avrebbe chiesto al Zelensky di fare stralciare dalle indagini del Procuratore di Kiev gli atti che riguardavano il figlio evento di cui non c'è alcuna prova presa della Camera da parte dei Repubblicani segna anche una svolta della lunga carriera di Nancy Pelosi che potrebbe rimanere come capogruppo di minoranza per lei si era parlato anche di un ruolo di ambasciatrice in Italia ma il suo team avrebbe sventito al suo posto a guidare i lavori ci sarà il repubblicano Kevin McCarthy il quale Biden ha mandato subito un messaggio distensivo sono pronto a collaborare con voi non ci verrà molto per capire se McCarthy è pronto a collaborare con lui la capsula Orion lanciata ieri mattina dal Kennedy Space Center in Florida ha già iniziato ad inviare le prime immagini realizzate da una delle videocamere che si trovano sul modulo di servizio sulla navetta fotogrammi preziosi per valutare le condizioni della parte esterna della capsula in cui si vede Orion con la terra sullo sfondo che diventa sempre più piccola mentre la navicella spaziale si allontana sono in tutto 16 le videocamere a bordo che stanno documentando la missione Artemis One senza equipaggio missione che durerà circa 25 giorni l'obiettivo è quello di raggiungere l'orbita lunare per effettuare una prima serie di test e preparare dopo oltre 50 anni un nuovo sbarco dell'uomo sulla Luna un progetto lo ricordiamo realizzato dalla NASA dall'Agenzia Spaziale Europea in cui diversi elementi tecnologici in particolare i pannelli solari della navicella sono stati realizzati in Italia del razzo chiaramente scusate adesso andiamo a vedere quelle che si apprestano ad essere le conclusioni della COP27 in Egitto dopo tanti giorni di dibattito il grande tema irrisolto rischia di essere come sempre quello della finanza climatica la parola fallimento alleggia su questa riunione del COP27 su cui gravano tensioni geopolitiche e il disaccordo su temi chiave tra stati emergenti e paesi ricchi Franz Timmermans vicepresidente dell'Unione Europea poco fa in conferenza stampa ha detto se fallisce questa COP perdiamo tutti e non abbiamo tempo da perdere l'UE farà di tutto per trovare il compromesso ma l'accordo per i ristori ai paesi emergenti sul clima ancora non c'è al COP27 di Sharm el-Sheikh il paragrafo sul tema è rimasto vuoto nella bozza di documento finale preparata questa notte non sarebbe dunque stata raggiunta un'intesa per quegli stati in via di sviluppo guidati dalla Cina che chiedono a quelli ricchi di creare un fondo ad hoc 100 miliardi l'anno la richiesta una sorta di risarcimento per stati come quegli africani che subiscono danni all'ambiente che loro non hanno mai contribuito a creare stati uniti ed Europa temono esborsi eccessivi e preferiscono confermare gli strumenti di sostegno esistenti con qualche aggiornamento un'intesa va trovata detto ancora il vicepresidente ma la definizione di stato emergente va aggiornata alcuni stati che lo erano nel 1992 ora sono al top delle economie mondiali poco incoraggianti le stime riportate al COP secondo cui con gli attuali impegni di decarbonizzazione degli stati le emissioni al 2030 caleranno di un risicato 0,3% rispetto al 2019 sul fronte degli investimenti sono previsti 4 mila miliardi all'anno fino al 2030 per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette al 2050 una riunione difficile che non sta portando risultati rivoluzionari i traguardi da raggiungere restano gli accordi di Parigi ma gli sforzi devono aumentare per tutti le emissioni invece che diminuire stanno salendo del 10% di questo passo l'inalzamento della temperatura sarà di 2,8 gradi entro fine secolo per contenerlo entro i 2 gradi o 1,5 gli accordi di Parigi prevedono una riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 5% per gli stati sviluppati e del 10% per quelli in via di sviluppo queste percentuali sono state aggiornate rispettivamente al 30 e 45% un traguardo ancora lontano parliamo adesso di una delle vertenze più complesse in corso da 10 anni che deve affrontare subito l'esecutivo di Giorgia Meloni quella del futuro dell'ex ILVA che oggi è sul tavolo del Mise Acciaieri d'Italia ha deciso di disertare la riunione al Ministero delle Imprese al tavolo del Mise ci sono tutti sindacati regioni ex ILVA in amministrazione straordinaria proprietaria degli impianti tranne l'azienda interessata eppure si deve parlare del futuro del gruppo siderurgico più grande d'Europa con oltre 10.000 dipendenti con l'occupazione dell'indotto a rischio e la scarsa liquidità una delle vertenze più complesse in corso da 10 anni che deve affrontare il governo Meloni il Ministro Urso punta a definire una chiara politica industriale lo Stato si assuma le sue responsabilità chiede con forza la FIOM CGL c'è bisogno di soldi ma quei soldi devono essere condizionati al lavoro e all'ambientalizzazione la FIM chiede che lo Stato diventi subito socio di maggioranza al tavolo del Ministero si parla innanzitutto della sospensione dei contratti con 145 fornitori di cui 43 di Taranto una decisione improvvisa improvvida e non giustificata detto il Ministro Urso provvedimento che i sindacati vorrebbero vedere immediatamente sospeso durerà solo fino a dopo Natale aveva precisato in un'intervista il Presidente di Acciaierie d'Italia Franco Bernabè ma al rischio ci sono 2000 posti di lavoro oltre a ripercussioni pesanti sulla sicurezza una parte delle ditte fermate si occupa infatti di manutenzione la galassia di piccoli fornitori che lavorano per Ilva era già più volte andata in affanno per i pagamenti in ritardo ora vedono sospesi per almeno due mesi tutti i contratti la ragione del provvedimento dal punto di vista dell'azienda l'ha spiegata Bernabè i grandi clienti industriali del siderurgico stanno rallentando le loro produzioni un calo quindi dei profitti solo 4 milioni di tonnellate di acciaio prodotto a fronte di maggiori spese per l'energia il governo Draghi aveva destinato un miliardo al gruppo siderurgico nel decreto aiuti bis per un aumento di capitale o strumenti per il rafforzamento patrimoniale un'operazione delicata all'utilizzo dello stanziamento deve rispettare le norme sugli aiuti di Stato e ad un intervento finanziario pubblico deve partecipare anche il privato i sindacati si aspettano oggi la programmazione di una serie di provvedimenti sulla questione ILVA il primo chiedono deve essere la revoca della sospensione dei contratti con i fornitori sindacati che una prima decisione da par loro l'hanno presa 4 ore di sciopero lunedì uno sciopero che sarà nazionale di gruppo si tratterà appunto lunedì prossimo è stato proclamato alla fine di questo tavolo al termine di questo tavolo tre omicidi sono stati scoperti a Roma nelle ultime ore probabilmente a sfondo sessuale due donne di origine cinese sono state ritrovate senza vita in un appartamento nel quartiere Prati in base alle prime notizie una delle due donne si trovava sul pianerottolo dell'edificio l'altra all'interno dell'appartamento e in un altro appartamento poco distante una terza vittima una transessuale trovata morta con una ferita al torace inflitta con ogni probabilità da un coltello gli agenti della Questura hanno avviato le loro indagini per capire se ci sia un collegamento tra questi due casi adesso parliamo dei dati dati allarmanti che riguardano i minori quelli sugli abusi abusi che sono sessuali e scolastici in crescita nel nostro paese e quelli sui suicidi con un vero e proprio allarme dell'Unicef è l'età più difficile quella del passaggio dall'infanzia al mondo degli adulti quella della pre-adolescenza dai 10 ai 13 anni che vede sempre più ragazzi minorenni vittime di abusi e maltrattamenti un aumento che si registra soprattutto nel contesto in cui i ragazzi dovrebbero essere più protetti la scuola nei primi mesi del 2022 c'è stato un incremento del 54% a scattare l'ultima allarmante fotografia del servizio analisi criminale della polizia di stato nel rapporto minorenni vittime di abusi sono aumentati i casi di violenza sessuale le vittime sono in maggioranza donne in particolare sotto i 14 anni autori dei reati sono uomini compresi tra i 35 e i 64 anni c'è poi l'altra frontiera quella virtuale attrazione e pericolo per i giovanissimi sono cresciuti i casi di adescamento online cyberbullismo e sextortion il ricatto a sfondo sessuale per estorcere denaro di cui sono vittime soprattutto le donne e l'impatto per chi subisce questo genere di reati è devastante perché la vergogna che i ragazzi provano impedisce loro di chiedere aiuto ai genitori o ai coetanei viene sottolineato nel report la navigazione in rete a numerose insidie i dati del 2021 sull'adescamento online hanno registrato un incremento del 33% rispetto all'anno precedente in aumento i casi del cosiddetto revenge porno ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti l'attrazione poi verso le cosiddette social challenge le sfide anche attraverso l'invio di messaggi privati foto e video inducono i giovani a compiere azioni pericolose per la loro salute mentale per la loro vita anche l'emulazione dello squid game la popolare serie tv vista da moltissimi ragazzi nonostante fosse destinata a un pubblico adulto ha generato episodi di violenza imitativa o ancora sono sempre più diffusi i gruppi social sui disturbi alimentari devastanti per ragazze e ragazzi più fragili è dal 2020 che questi fenomeni hanno iniziato a crescere ma il trend non accenna ancora a diminuire secondo l'unicef nel mondo quasi 46.000 adolescenti muoiono a causa di suicidio ogni anno più di uno ogni 11 minuti un dato davvero allarmante ci fermiamo per qualche istante torniamo con la pagina sportiva tra poco torniamo in studio pagina sportiva ieri sera la nostra nazionale in versione sperimentale ha vinto 3 a 1 in amichevole contro l'Albania ma gli occhi sono puntati sul mondiale che domenica comincia in Qatar c'è da dire che al di là dell'attesa sportiva per le partite per capire chi potrà diventare campione del mondo ci sono anche molti timori e molte perplessità per quelli che sono i modi sistemi in vigore nel paese che ospita questo mondiale ostentazione oscurantismo e censura abbiamo capito che ci accompagneranno nelle pieghe di un torneo che agli occhi del mondo sarà radiografato e pesato nelle parole passato allo scanner di culture diverse e speriamo che non diventi una caccia alle possibili voci del dissenso la partenza non è certo incoraggiante l'aria pesante come testimoniano queste immagini l'inviato della tv dalese era in diretta da un luogo pubblico quando sono intervenuti alcuni responsabili della sicurezza che senza motivo hanno minacciato di rompere la telecamera più tardi il comitato organizzatore si è scusato per l'episodio sgradevole ma è chiaro il modo di agire che non contempla la tolleranza vedremo cosa accadrà nelle prossime ore quando aumenteranno le truppe del tv straniere il governo americano ha fornito a coloro che andranno in Qatar un bademekum sui comportamenti evitare proteste politiche verso l'islam incontri sessuali occasionali e alle donne si consiglia ricoprirsi spalle seno e ginocchia non sarà facile durante il mondiale il rapporto con gli organi di informazione da questo punto di vista c'è una nazionale quella dell'Iran che ha un nervo scoperto si tratta come sappiamo bene di diritti calpestati delle donne e potrebbe diventare un tema ricorrente intanto si registra un autogol dell'allenatore della squadra iraniana Carlos Queiroz che ha avuto un battibecco con un giornalista inglese in conferenza stampa alla domanda come si sente a rappresentare un paese che reprime i diritti delle donne ha replicato quanto mi paghi per rispondere poi ha stemperato il clima dicendo i nostri giocatori sono liberi di protestare tra i convocati c'è anche Sardar Azmun del Bayer Leverkusen che pubblicamente ha sostenuto le proteste antigovernative scatenate dalla morte di Masha Amini che in Rozzer era stato messo sotto pressione dal regime per escludere Azmun dalla spedizione mondiale poi ci sono i CT alle prese con questioni che hanno a che fare con il campo è il caso Riscaloni che prima del debutto della sua Argentina martedì prossimo con l'Arabia Saudita sta monitorando le condizioni fisiche di quattro calciatori e tra questi ci sono anche gli italiani Di Bala e Nico Gonzalez che precauzionalmente non hanno partecipato alla goleata di ieri contro gli Emirati Arabi Scaloni non esclude qualche taglio che si può fare fino al giorno prima dell'esordio sono arrivati a Doe i campioni del mondo della Francia con Necirou Teo Hernandez e Rabiot a rappresentare il nostro campionato assenze pesanti per Deschamps Pogba Kanté Mignan e Kimpembe ai quali si è giunto all'ultimo il forte attaccante dell'Ipsia Nkunku per un duro fallo in allenamento di Kamavinga il centrocampista del Real Madrid colpevolizzato sui social Chiudiamo con i big del tennis a Torino Non è Djokovic è tornato quello di un tempo il solito tennis preciso chirurgico bordate da fondo campo servizio infallibile perfezione vera margine di errore ridotto al minimo nel tennis non ho mai visto uno così forte a difendersi e trasformare in un attimo lo scambio in un attacco disse una volta Agassi di Djokovic una sintesi perfetta quando il serbo accelera per resisterli bisogna avere la forza di controbattere su ogni palla ieri il russo Rublev l'ha fatto solo nel primo set 6-4-6-1 il punteggio finale a favore di Djokovic una vittoria che gli ha permesso di conquistare per l'undicesima volta la semifinale delle finals il torneo che mette di fronte gli otto giocatori migliori dell'anno sicuro di un posto in semifinale è anche il norvegese Rud in nome degli altri due semifinalisti usciranno dai due spareggi il primo dei quali è in programma stasera e vedrà di fronte il canadese Ojealia Sim e l'americano Fritz il secondo dall'altra Sisi Paz che ieri si è sbarazzato della concorrenza di Medvedev battendolo in 3-7 dopo tutto quello che abbiamo passato quest'anno io e le persone a me vicine sono davvero contento ha detto Djokovic che ha aggiunto sapere di poter tornare a giocare gli Open d'Australia a gennaio è la notizia più bella quegli Open d'Australia che il serbo a inizio anno era convinto di vincere per la decima volta poi sappiamo come è andata la negazione del visto per le note posizioni Novax la prigionia in un centro di detenzione per i migrati irregolari a Melbourne la sentenza umiliante che lo costrinse a lasciare l'Australia sconfitto accompagnato da dubbi l'odissea triste del tenista servo dura una quindicina di giorni e coincise anche con una delle più belle vittorie di Rafa Nadal ora la situazione si è capovolta nell'angolo è finito il Maiorchino eliminato dalle Finals di Torino intristito dai dubbi sul suo futuro intanto Roger Federer ha smesso e lo spagnolo Alcaraz è diventato il numero uno al mondo da appena 19 anni significa che toccherà soprattutto a Djokovic portare l'attacco alla nuova gioventù sono pronto ha concluso il serbo sento la fine della mia carriera lontana e per me i giovani sono uno stimolo in più era l'ultima immagine di questa edizione la linea va a Tiziana Panella tagga dai i suoi ospiti grazie per essere stati con noi buon pomeriggio sulla 7 grazie a tutti